Abbiamo riscontrato quello che era necessario, o si cambia musica o non arrivano più delle risorse da parte dello Stato. Io voglio ricordare che la sottoposizione della Calabria, come delle altre regioni ai piani di rientro, è un'occasione straordinaria o per collassare o per finalmente cambiare. Abbiamo registrato l'impegno al cambiamento, abbiamo voluto in qualche modo presentare questa relazione adesso, all'inizio dell'esperienza del Presidente Scopelliti, perché vogliamo fra un anno, fra due anni, fra tre anni verificare se e quanto di quello che si è impegnato a fare verrà fatto.